Mario Rizzetto, ospite della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa per il ciclo di seminari Orizzonti in Medicina e Biologia, coordinati da Vincenzo Lionetti. Le più recenti novità terapeutiche sulle malattie epatiche, epatite D, sono state così raccontate dal medico autore della sua scoperta nel 1977. Ordinario in Gastroenterologia all'Università di Torino, Rizzetto nel 1977 annunciava alla Comunità Scientifica Internazionale di aver individuato un nuovo sistema antigene anticorpo nel siero e nel fegato di alcuni portatori dell'antigene dell'epatite B. Così un giovanissimo medico ricercatore, allora poco più che trentenne, aveva fatto una scoperta che ad oggi rappresenta una pietra miliare dell'epatologia e che ha aperto un nuovo importante capitolo sulle epatite virali. Il virus dell'epatite delta o epatite D è infatti difettivo, cioè è incapace di sussistere in proprio, ma può attivarsi e può diventare patogeno soltanto in presenza del virus dell'epatite B. L'impatto clinico dell'epatite D è importante, poiché sovrainfettando i portatori dell'epatite B ne aggrava una persistente epatite o crea una nuova malattia nei portatori sani dell'epatite B. Con i piccolati a B.S.G. nell'ambito dell'epatocita... Grazie.